Lo sguardo eterno è il nome della collettiva fotografica curata da Daniela Marra, esposta in Casina Pompeiana dal 6 al 16 novembre. Il ricordo è frutto dell'interazione con l'altro. Da questa premessa, secondo lei, qual è il rapporto tra il concetto di eterno e chi osserva un'immagine fotografata? Allora, l'immagine di per sé racchiude sempre qualcosa che è altro da sé. Quindi nel guardare un'immagine può scaturire involontariamente un'emozione, un'emozione che ci rimanda prossimamente a un ricordo. Quindi un ricordo involontario, non un ricordo che passa per la razionalità, bensì che passa per l'emozione. L'immagine che è più sintetica del concetto di tutta la mostra è questa immagine di questa bambina nella scuola di danza con una porta semiaperta. Una porta spalancata sulla memoria che lì dove il ricordo arriva non è un ricordo definito, bensì incomincia come ricordo sfocato, per poi passare per la razionalità e diventare ricordo definito. Grazie a tutti!